La pioggia e i timidi tentativi di protesta organizzata non frenano Salvini e la Lega, che fanno il pienone nel teatro partenno di Avellino e lanciano così la campagna elettorale della lista capitanata da Bianca Maria D'Agostino. Grazie a tutti. Matteo con la sua concretezza, con la sua determinazione, con la sua assunzione di responsabilità per tutto quello che portava avanti nell'interesse della nazione e, ci tengo a dirlo, dell'Italia intera, non del Nord. Il Meridione e il Settentrione dovranno viaggiare ad un'unica velocità, assolutamente. E se lui è qui è per aiutare Avellino a non rimanere una città di serie C, di serie D, ma a viaggiare alla stessa velocità delle più prospere e più laboriose città del Nord. E qui, con la sua testimonianza, ci aiuterà sicuramente, con la sua concretezza, con la sua capacità, aiuterà Avellino a risorgere. Dateci fiducia e sicuramente porteremo avanti il nostro progetto. Grazie. Un regalo per Bianca Maria, una taglia proprio piccola. E questa è la felpa per il segretario Matteo Salvini. Perdonatemi se non la metto qua dentro, ma altrimenti muoio di sudore. Magari la porto a qualcuno della CGL lì fuori. Grazie. Grazie.